Con la firma dell'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea parte la programmazione 2021-2027. La politica di coesione è alla base di molti progetti in Italia per promuovere lavoro, benessere e uno sviluppo del territorio equilibrato e rispettoso dell'ambiente. L'Accordo orienterà 75 miliardi di euro per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Europa, per diventare più intelligente, più verde, più connessa, più sociale e inclusiva, più vicina ai cittadini.